Buonasera e ben trovati con l'informazione di Arezzo TV. Cominciamo subito con la giornata di lutto cittadino, la giornata del dolore e soprattutto il giorno dell'ultimo saluto a Sara Ruschi e la mamma Brunetta Ridolfi, vittime del duplice omicidio di Via Benedetto Varchi. I funerali sono stati celebrati in cattedrale ad ufficiare la messa funebre il vescovo del diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro Andrea Migliavacca. Il servizio. È uno strazio, una cosa veramente indescrivibile perché una cosa così, una mamma e una figlia è la cosa più violente che possa essere. È il giorno del dolore dell'ultimo saluto a Sara Ruschi e alla mamma Brunetta Ridolfi, vittime del duplice omicidio di Via Benedetto Varchi. I funerali sono stati celebrati in cattedrale ad ufficiare la messa funebre Monsignor Andrea Migliavacca. È un'intera città quella che si stringe oggi attorno alla dolore della famiglia. Il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli ha proclamato il lutto cittadino, dunque bandiere a mezz'asta negli edifici comunali e l'invito agli esercizi commerciali di sospendere le attività e abbassare le sara cinesche nel corso della celebrazione dell'esequia. Oggi la città si ferma per sottolineare due cose, una vicinanza nei confronti di tutta la famiglia in particolare dei figli e anche uno sdegno discreto ma forte nei confronti di un fatto, l'ho detto più volte, che non è tollerabile, non è accettabile, ha sconvolto e stravolto questa città. Per la morte delle due donne è in carcere Javad Disham. Il marito di Sara era stato arrestato subito dopo il duplice delitto che si è consumato sotto gli occhi dei figli della coppia, un ragazzo di 16 anni ed una bambina di due. Io ho più volte detto che l'emozione dura poco, invece le istituzioni durano tutta la vita e quindi noi cercheremo di essere vicini in maniera discreta, in maniera silenziosa, però anche in maniera molto potente e mi sento di dire che tutta la città farà la stessa cosa. È ricoverato in gravi condizioni l'uomo di 80 anni che ha perso conoscenza ieri nello scontro in bicicletta contro un'auto in via romana. Le sue condizioni ieri mattina sono apparse subito molto gravi quando i soccorritori sono giunti sul posto con i mezzi dell'emergenza urgenza. L'anziano è stato stabilizzato ed è stato trasportato all'ospedale San Donato in codice rosso dove lo attendeva un elicottero Pegaso che lo ha trasferito all'ospedale Le Scotte di Siena da ieri si trova nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. La famiglia di Bruno Albiani, l'83enne scomparso sabato 15 aprile nei boschi di Chiassa Superiore lancia un appello e diffonde la sua foto per cercare di avere aiuto, un aiuto in più, un aiuto ulteriore per le ricerche e chiedere a chiunque avesse informazioni utili di segnalarlo. Sono passati ormai sei giorni da quando l'uomo ha fatto perdere le sue tracce e era uscito per raccogliere asparagi. L'ultima sua posizione è conosciuta, spiega la famiglia, è nel posteggio dietro al cimitero della Chiassa in prossimità del bosco. È alto 175 centimetri, ha una corporatura media. Il numero da contattare in caso di suo ritrovamento di informazioni a riguardo è il seguente 349 85 00 004, ripeto 349 85 00 004, oltre ai numeri dell'emergenza. Ancora in fibrillazione i lavoratori della FIMER di Terra Nuova, la vertenza sindacale va avanti, ma ancora nessuno sa quale sarà il destino dei 400 dipendenti dell'azienda valdarnese. Chiara Sadotti. Non sapendo di cosa sta succedendo siamo in forte preoccupazione. Volevamo delle risposte e ad ora non ce le stanno dando. Ancora una giornata di tensione e apprensione a Terra Nuova a Bracciolini per le sorti della vertenza FIMER. Dallo scorso mercoledì i lavoratori sono in stato di agitazione permanente e per questa mattina fuori dai cancelli dell'azienda è stata convocata un'assemblea pubblica. Noi vogliamo portare l'attenzione perché abbiamo il diritto per i lavoratori di sapere qual è il loro destino. I lavoratori tornano a chiedere chiarezza definitiva su una delle ipotesi che si è affacciata nell'ultimo periodo, ovvero che ci sia l'interessamento di un fondo con caratteristiche industriali che avrebbe presentato un'offerta vincolante. Noi vogliamo sapere se c'è l'investitore, chi è l'investitore, parlare con l'investitore per capire che tipo di vocazione darà a questo stabilimento, ma perché teniamo a far sì che questa vertenza si risolva curando gli interessi di quelli che sono legittimate a avere degli interessi e sono i lavoratori e i creditori. E poi la continuità azientale perché oltre a garantire la tutela dei posti di lavoro garantirebbe la tenuta del concordato perché siamo una procedura concordataria. Il prossimo 26 aprile è previsto un incontro all'interno del sito produttivo di Terra Nuova tra management a Regione Toscana, sindacati e comune di Terra Nuova Bracciolini. Ci aspettiamo ovviamente che il consiglio di amministrazione dell'azienda sia presente o la proprietà e ci comunichi e ci ufficializzi la proposta che è pervenuta o le eventuali proposte e qual è la via che intendono percorrere in tempi celerissimi. A rischio 400 posti di lavoro senza contare l'indotto. È una preoccupazione forte che abbiamo come organizzazioni sindacali, non soltanto quello di perdere gli ordini che abbiamo, ma anche di continuare a perdere professionalità fondamentali che tengono in piedi questa azienda. Il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli ha comunicato ufficialmente di aver scritto una lettera al ministro per le infrastrutture Matteo Salvini per informarlo che Rigutino come migliore collocazione della nuova stazione ad alta velocità della provincia di Arezzo ha ottenuto pochi fa l'approvazione all'unanimità da parte del Consiglio provinciale. Nelle varie discussioni tecniche non è mancato il peso campanilistico che si è snodato tra chi sostiene migliore la località di Creti, che accontenterebbe maggiormente Val di Chia nelle province di Perugia e Siena, e chi quella di Rigutino, che farebbe prevalere la fazione Aretina. Ma la scelta potrebbe dipendere anche dai fattori di collegamento. Infatti a Creti la ferrovia sarebbe raggiungibile solo su gomma, mentre Rigutino è solo grazie a uno scambio diretto ferrovia-ferrovia. Il Comune di Arezzo ha sempre dichiarato la sua presa di posizione a sostegno della stazione a Rigutino e pochi giorni fa anche la provincia di Arezzo con il Presidente Polcri ha aderito alla stessa linea con una mozione che è stata approvata dal Consiglio provinciale. Il Sindaco di Cortona Meoni invece incalza tuttora con la proposta di Creti. Intanto il Presidente del Comitato, Sava per la stazione ad alta velocità di Arezzo, Matteo Galli, ribatte punto su punto i vantaggi della costruzione della stazione a alta velocità a Rigutino piuttosto che a Creti. E cambiamo decisamente argomento. Una settimana di servizi sanitari di informazione, prevenzione e cure gratuite riservate alle sole donne. Questa è un'iniziativa chiamata Open Week, organizzata da Fondazione Onda in occasione dell'ottava giornata nazionale della salute della donna e promossa grazie ad un incontro svoltosi presso l'auditorium Pieraccini dell'ospedale San Donato di Arezzo. Sentiamo. Una settimana di cura al femminile nell'asla toscana sud-est in occasione della giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile, la Fondazione Onda ha organizzato l'ottava edizione dell'Open Week con l'obiettivo di promuovere l'informazione, la prevenzione e la cura al femminile. È una settimana dedicata alla riflessione e alla diffusione della consapevolezza e della necessità di garantire con i nostri percorsi sanitari e la salute della donna. Questo significa partire dall'informazione, partire dalla diffusione dei principali concetti legati alla prevenzione ma significa anche affrontare diversi percorsi specifici diagnostico-terapeutici, di patologie specifiche. Il San Donato ha aderito mettendo in campo i propri servizi e i propri professionisti della diabetologia, della psichiatria, della senologia e della ginecologia. Proprio la diabetologia ha organizzato un'iniziativa dedicata a diabete donna. La medicina di genere si propone di differenziare l'attenzione alla donna e all'uomo perché nel corso della storia della medicina quella che è la ricerca clinica, quello che è lo studio delle malattie ha sempre non differenziato l'uomo inteso come elemento maschile rispetto alla donna. Si sono riscontrate delle differenze in termini di risposta alla terapia, per esempio, tra uomo e donna o nel diabete mellito di insorgenza di complicanze e di gravità delle complicanze stesse, nonché purtroppo anche di incidenza di mortalità. Fino a dieci anni fa erano più gli uomini affetti da diabete adesso siamo al 50% all'incirca. Il problema del diabete nella donna è che nella donna ha un peso diverso che nell'uomo perché sappiamo che le complicanze nella donna sono più pesanti, sono più gravi soprattutto le complicanze legate alle malattie del cuore e dei grandi vasi. Si chiama Petunia la gatta ospite del canile di Arezzo che ha dato alla luce una gattina e che ha accolto anche altri due gattini in cerca di latte di una mamma, oltre a questa famigliuola ce ne sono diverse altre in attesa di adozione nell'impianto gestito dall'EMPA ma prima di tutto ci cercano balie umane per lo sveziamento dei diversi piccoli. Chiara Sadotti Petunia, una gatta a tricolore, era arrivata al canile di Arezzo lo scorso gennaio con un trauma cranico, la frattura dell'omero ed incinta. Il 15 marzo ha dato alla luce con un parto cesario la sua gattina il cuore di Petunia però è davvero grande dopo aver partorito ha infatti accolto anche tre micini abbandonati. Una settimana dopo hanno trovato tre gattini buttati dentro la spazzatura chiusi dentro un sacchettino gattini di un paio di settimane che noi abbiamo dato a Petunia e Petunia li ha presi subito, li ha lattati, li ha curati subito e quindi la figlia unica si è trovata con altri tre fratellini. Come ogni primavera è scattata l'emergenza a cucciolate e abbandonate tanti gattini che si trovano al canile di Arezzo. Siamo già pieni di gattini quest'anno però fortunatamente sono arrivate soprattutto gatte già incinta o trovate con gattini appena nati veramente veramente brave infatti quest'anno come tutti gli anni però quest'anno principalmente vorremmo trovare casa anche alle mamme perché sono veramente bravissimi di una dolcezza unica, belle, giovani e sono delle mamme fantastiche. Al canile purtroppo arrivano anche cucciolate lasciate senza mamma da qui l'appello per trovare balie. Cerchiamo balie umane disposte a portarsi a casa i gattini noi forniamo latte, biberon e tutto il necessario e una volta svezzati li riprendiamo e cerchiamo adozione. Qui ci sono tanti gattini che cercano una famiglia ricordiamo l'adozione consapevole e la sterilizzazione. Sì assolutamente noi li diamo con l'obbligo di sterilizzazione sia i maschi che le femmine. Se c'è già qualche gattino pronto a cercare una famiglia? Sì, dalla prima settimana di maggio faremo venire le persone a vedere i gattini e a sceglierli e abbiamo già 2-3 cucciolate che per metà maggio possono andare a casa. Passiamo allo sport, è tutto pronto per il torneo giovanile di basket guidelli organizzato dalla Wisp Sport per Tutti l'AMEN Scuola Basket Arezzo in collaborazione con il Comune di Arezzo e Arezzo in tour tanti giovanissimi che arriveranno da tutta Italia per questa manifestazione arrivata la sua 38esima edizione. Grazie a Settimelli. Torna il trofeo guidelli, quante saranno le squadre quest'anno? Allora quest'anno sono 30 le squadre partecipanti partecipanti nelle tre categorie, under 12, 13 e 14 sempre sui sei palazzetti fra Arezzo e provincia sono comunque quasi 500 gli atleti anche quest'anno più tutte le persone al seguito anzi forse dirò che quest'anno c'è ancora più familiari al seguito visto il weekend. Abbiamo riempito gli alberghi della città e della provincia questo ci fa come sempre onore bene, siamo contenti diciamo di tutto siamo un po' stanchi perché quest'anno ancora sempre più difficile forse è l'età che avanza e consentimi anche di dare questa ulteriore notizia che proprio ieri sera ci è stata confermata un grandissimo personaggio sarà anche quest'anno ospite al guidelli che è Flavio Tranquillo per noi è come è la voce della pallacanestro NBA e nazionale quindi questo è un altro tassellino che testimonia l'importanza di questo torneo Sarà un torneo come sempre anche inclusivo voi avete anche tante squadre Sì, fra le tante squadre ancora una volta abbiamo voluto riportare a Arezzo la Tam Tam di Castelvolturno non tanto per, come dire, rifare la stessa ma perché i ragazzi cambiano ogni anno gli under ovviamente sarco quindi quelli che verranno non hanno mai partecipato a tornei lontani da casa qualcuno addirittura non ha mai visto neanche un albergo quindi è una cosa che in quei ricordi di quei ragazzi ancora oggi, quelli di tanti anni fa ascoltiamo testimonianze come Al Jazeera ha testimoniato ci ha fatto piacere che in quel contesto era venuto fuori anche il nostro nome quindi sono ricordi che rimangono a questi ragazzi con qualche difficoltà Questo torneo, come al solito, insomma porta tantissima gente in città e insomma anche questa struttura alla fine ha una vita particolare in questo periodo dell'anno Allora, la struttura viene chiaramente valorizzata da un torneo del genere lo è tutto l'anno perché ci sono moltissimi eventi sportivi l'attività della SBA stessa che è tanta roba però il Guidelli ormai insomma è un must del nostro calendario sportivo uno degli eventi più importanti anche dal punto di vista turistico-ricettivo non a caso siamo qui come Comune ma anche come Fondazione Rezzo in Tour perché il turismo sportivo è una branca del turismo molto importante dal punto di vista del valore sportivo avevo tanti giovani provenienti da tutta Italia che giocano a basket in una delle società di basket più sane d'Italia mi sento di dire Si esce comunque da un weekend insomma di Pasqua già bello però ecco questo torneo porta quel segmento di turismo sportivo che comunque non fa mai male No, no, non fa male anzi sul quale puntiamo perché il turismo sportivo è uno dei rami del turismo che a noi interessano fanno numeri purtroppo ovviamente condensati in un periodo particolare dell'anno perché per ovvi motivi non possono riempire tutti i mesi dell'anno però è un settore che ci fa molto gola che noi sosteniamo volentieri soprattutto quando un torneo come in questo caso organizzato con questa così, con questa dotizia di particolari con questa capacità che insomma fa fare anche bella figura la città e rimaniamo in ambito WISP perché si è celebrata in questa settimana la quinta giornata del torneo special Futsal il campionato di calcio a 5 organizzato dal comitato provinciale di Arezzo WISP Sport per tutti dedicato agli atleti speciali insieme ai volontari e operatori delle associazioni delle strutture sanitarie che li seguono il mese prossimo si disputerà la fase finale che premierà una delle 5 squadre che in questi mesi si sono scontrate sul campo del Palasport di Marciano della Chiana ovvero il Clà Electra e il Pionta di Arezzo l'associazione Arcadia di Terra Nuova Bracciolini il CAM di Teronto La Cortona e l'associazione Tallone di Achille di Bibiena la squadra valdarnese dell'Arcadia si è giudicata la giornata rispettivamente seconda e terza sono arrivate le due retine Electra e Pionta quarti i casentinesi del tallone d'Achille e quinto il CAM questa era l'ultima notizia per questa sera grazie per averci seguito e buon proseguimento con i programmi di Arezzo TV Grazie a tutti